Sono cinque i medici del pronto soccorso e della chirurgia e danese esisti dell'ospedale di Milazzo colpiti dagli avvisi di garanzia per omicidio colposo riguardanti la morte della donna di 33 anni, casalinga di Torregrotta, avvenuta la scorsa settimana. E proprio quando i PM Fabio Sozio e Federica Paiola stavano procedendo a nominare il perito perché venisse effettuata l'autopsia, uno dei difensori degli indagati ha chiesto l'incidente probatorio determinando il trasferimento del fascicolo al GIP del Tribunale di Barcellona perché si proceda all'autopsia. Questa richiesta, nell'attesa che il GIP si pronunci su quanto prospettato dal legale, farà allungare i tempi di consegna del corpo della donna ai familiari per la celebrazione dei funerali, resterà sotto sequestro anche la cartella clinica. Come è noto, i fatti si sono verificati all'ospedale di Milazzo tra venerdì e domenica della scorsa settimana. La donna era giunta al pronto soccorso venerdì sera perché avvertiva fonti dolori allo stomaco. Sabato i medici decisero di sottoporla ad intervento chirurgico. Nel pomeriggio dello stesso giorno il quadro clinico si è però ulteriormente aggravato e annulla e valso il trasferimento in rianimazione perché domenica mattina la donna è morta. I fatti furono denunciati dal marito della donna ai carabinieri della compagnia di Milazzo e di seguito la magistratura viò l'inchiesta. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Sebastiano Campanella, Tommaso Calderone, Massimo Alosi, Francesco Ruvolo, Simone Giovannetti e Bonaventura Candido. La famiglia della donna è rappresentata dall'avvocato Caterina Marullo.